Lascia che ti racconti la storia. E devo dire che invece c'è stato un clima proprio di grande attenzione, di grande intensità e di grande commozione. Pietro è il ragazzo che ha ispirato Pietro del libro. Anche per lui, venuto al mondo, è stata un'esperienza umana abbastanza formidabile. Quando c'è una piccola storia diventa universale, c'è una storia di un figlio, diventa la storia di tutti i figli ed è qualcosa che ci riguarda tutti. Grazie